L'altro giorno l'avrò fatto un errore. Quello era il mio volo. Io ho quasi ucciso 900 persone. No, mi hai salvata. È come se ci conoscessimo da sempre. È il terzo giorno che succede. Che sta succedendo? Mi stanno capitando delle cose impossibili da spiegare. Esattamente alle 2.22 di ogni giorno. Pooh 2.22, il destino è già scritto. Dal 29 giugno al cinema.